Hello bell guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova decklist come avevo promesso e nello specifico, come appunto già citato nello scorso video, quello inerente a una versione del mazzo Drago, nello specifico Quickdraw Dragon creato interamente da me, che ho giocato durante lo scorso regionale che si è tenuto la scorsa domenica qui a Roma. Diciamo, come risultato è andato mediocre, dato che ho fatto un 3-3, che però secondo me è stato dovuto un sacco, ma un sacco a miei errori durante la giocata, quindi meno colpa del mazzo più errore mio che fa un sacco appunto nelle partite. Comunque sia, piccola premessa che faccio sempre durante appunto le decklist Edison, se siete nuovi del canale o siete novizi del formato Edison, avete magari bisogno di una piccola guida introduttiva, qui sotto in descrizione o in sovraimpressione troverete appunto la mia guida del formato, in cui potrete chiarire i vostri dubbi e quant'altro. Ritornando a noi, vi mostro invece la lista in questione. Allora, come è partito diciamo il mio discorso? Dato che... Sono andato... Ups, spoiler! Dato che con il mazzo Drago che avevo, il Disaster Dragon, andavo a briccare un casino, ho deciso un po' di velocizzare il mazzo da questo punto di vista, quindi mi è venuto un po' questa idea di crearmi il Quick Draw Dragon, quindi avere oltre la strategia ignorante del Drago, del metallico oscuro occhi rossi, anche avere un comparto diciamo secondario che fosse anche veloce e abbastanza aggro per certi versi, e che mi garantisse alcune out. Quindi, allora... Per cominciare abbiamo il reparto Drago, due... Oh, ma questa ce l'hai proprio, eh? Abbiamo solo due metallici oscuro occhi rossi e due viverne. Premetto un'altra cosa che questa è la prima versione, sto già lavorando alla seconda che probabilmente ho già fatto, e ora direte, ma perché non hai portato la seconda? Perché è ancora in fase di test. Questa qui su Dueling Network mi ha dato un sacco di soddisfazioni, ed è... c'è anche da dire che giocando online non so perché mi trovo molto meglio, forse perché ho meno pressioni. Dicevo, gioco solo due di questi perché nella mia testa, almeno anche durante i testa, avevo paura che briccasse un po' il mazzo giocando tre metallici in un mazzo che non è propriamente full Drago. Però forse mi sono reso conto che effettivamente il terzo poteva non farmi... non farmi male, ecco. Poi come comparto Drago ho continuato a gioco Monokakimeru Drago, e l'altro D-Side, un Drago di alta qualità di... un Parmalat, sostanzialmente, è un Light and Dark Nest Dragon. Questo è il reparto Drago che ho giocato. Il Parmalat sempre per lo stesso motivo perché avevo paura di trovarmi contro Blackwing con Icaro, Rico che è spammato ovunque, e inoltre essendo un livello 6 è un ottimo materiale sincro da utilizzare con un Torre, spoiler, che è l'altra carta del mazzo. Poi, al reparto pianta, si può dire, gioco due Draghi della Macerie che sono anche utili per lui. Vabbè, questo è un po' classicone, la Titanium e la Titanium. E poi, continuando, gioco la Cart Trooper e due Quick Draw Synchron. Riguardo questo, diciamo che in un primo momento volevo giocarlo a 1, però, giocando, appunto, roba che milla, ecco, continuo ad andare avanti, spero che si vedono, perché sono un po' contro luce, magari si sposta un po' più su, forse è meglio... Ok. Dicevo, giocando roba che milla, quindi la Cart Trooper, che mi può fare anche la carta in più in mano, e il Rico, avevo paura di millarlo e quindi renderlo inutile. Inoltre, diciamo, la cosa positiva anche del giocarlo a 2, è che se questi due li vedi assieme, è tanta tanta roba, insomma. Poi, gioco un Night Isle, che è ancora incerto, perché, allora, è vero che è forte con i Flicked Monsters, tant'è vero che gioco anche una Jara, ed è anche un Target Dark per Allur. E diciamo che, una delle problematiche che mi sono sempre posto nella testa, era lo Spirit Reaper. Direte, ma perché lo Spirit Reaper? Perché, giocando Disaster Dragon, nella versione che vi ho già mostrato, una delle problematiche era, appunto, incontrare mostri del genere, che tendevano a bloccare, diciamo, il beat. E questa qui, comunque, è una carta che, secondo me, è sottovalutatissima, è molto forte in alcuni contesti, e soprattutto, quando magari, la vostra mano, obiettivamente, fa schifo, ha briccato, questa carta, diciamo, è la svolta. È un po' unexpected, e, secondo me, è forte. Cioè, veramente è forte. L'unico problema è che, appunto, noi non giochiamo troppe trappole, quindi un po' ci devo pensare in merito, però mi ha salvato da un sacco di partite. Poi gioco Monosangan, che sono anche incerto su di lui. Cioè, Sanghan è Sanghan, c'è niente da dire. È anche Dark. Poi gioco Tragodia e Gorz, questi, invece, essenzialissimi. Un Kaius, che vorrei portare onestamente a due, dato che Kaius in Edison è fortissimo. E, soprattutto, molte volte avevo paura di... ed è capitato, purtroppo, giocando a Monopair, è questa cosa brutta, di Millalo, di Rico e di... e di, come si chiama, di Card Trooper. Un Black Spreader, fortissimo, che è tra i turner più forti del gioco. E il DAD. Il DAD vi direte, ma come cacchio per calarlo? Io vi garantisco che, se ho vinto le partite, 60-70% di grazia sta carta. Non è mai di troppo, considerate anche che, con Fusione Futura, di Millate, sicuro, questi due. E, soprattutto, giochiamo carte come Rico e Card Trooper, che fanno a Millare altri Dark. Quindi, veramente, veramente, forte il DAD. e sono convintissimo ancora di giocarlo. Come Spell, invece, abbiamo due giare, non tre, anche perché non c'è lo spazio. Una Fusione Futura, per fare, appunto, il nostro caro amicone, il nostro amico Fritz. e, allora, una cosa riguarda il mazzo importante, che, devo dirvi, è che, obiettivamente, fare Fusione Futura è un po' un bait. Mi spiego meglio. Diciamo che, fortunatamente, il nostro mazzo, cioè, il mio mazzo, ha varie risorse su cui puntare. Il reparto pianta, i Dark, e il Drago, ovviamente, è quell'altra parte del mazzo, ovviamente, molto, molto forte. E, parolossalmente, da una parte, non sempre, serve giocare aggressivi, almeno, con il reparto Drago, in quanto diventa una sorta di seconda risorsa, che, io vi garantisco, vi garantisco, che vi premierà durante le partite. infatti, molte volte che ho provato a giocare aggressivo, diciamo, sono stato punito, dato che, appunto, mi hanno toto Redice e, Ciaone. Mentre, appunto, verso il mid-late game, diventa molto più problematico, dato che l'avversario già comincia a usare risorse, magari abbiamo anche Titania, che ci fa da, da, lock in un certo senso, quindi ci aiuta a proteggere i Redice e roba varia. Comunque sia, poi abbiamo Tifone, Foolish, perché sostanzialmente fa, c'è, Fusione Futura è Foolish potenziata in questo caso, Peavy Storm, Brain Control, che, letteralmente, non ho mai visto, almeno durante il regionale, e, voglio toglierla, assolutamente no, perché, è diventata anche la carta contro cui ho perso, praticamente, tutti i tre match che ho perso, li ho persi per sta dannata carta, top deckata, e, non si dice, lo censuriamo. poi gioco Monobook, che vorrei portare a due, anche perché non gioco trappole, praticamente, e Mono, diciamo, perde un po' di senso, nel senso che, scusate la ripetizione, andando anche a millare un sacco, millandone uno, ci siamo persi il book, quando magari giocarne due, può aiutare un sacco, che obiettivamente è forte, in Edison, nel book. Tre, secondo me, troppo pesante, tranne che, per alcuni mazzi, come GB, però è veramente, forte blocchi sincro, ti previeni, magari, la ristruzione, di un mostro, anzi, la rimozione del mostro, con un botto, come strappole, eccetera, eccetera. Poi gioco, Fulmile e Voltex, che, dato che temevo, da una parte, temevo anche il mazzo rana, che mi facesse il lock, e bla 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 bla, e poi vabbè, sempre utile come, Born Breaker, per quanto riguarda, la parte dei mostri. Una, l'Orth Darkness, perché abbiamo, vari dark, che, si è, effettivamente, si è rivelata, molto utile. Carta che, invece, un po' ho fatto, non so se continuare, a giocarlo o meno, è la, card destruction, perché, è una carta, molto, ma molto, situazionale, però, facendomi, diciamo, due conti, penso che sia, una delle carte, che vorrei provare, a togliere, che ho provato a togliere, nella seconda, versione, riguardo il mazzo, però, probabilmente, a causa di, altre modifiche, che sto facendo, nella seconda versione, probabilmente, potrebbe, tornare, e infine, diciamo, non voglio chiamarla, patch, è una, instant fusion, che, utilizziamo, per calare, lui, sostanzialmente, perché questo, uno, è fortissima, con, lo zombie untore, o altri tunnel, mi ha parato un sacco di, ho vinto un sacco di, partite, per sta cosa, e, seconda cosa, è, free per il, red ice, dato che, diciamo, la viverna, è sempre, meglio, non, rimuoverla, diciamo, se abbiamo l'occasione, in alcuni casi, sì, siamo costretti, però, se abbiamo appunto, l'instant fusion, è figo, anche perché, poi abbiamo una special, non dobbiamo spiegarci la norma di viver, e, bla, bla, e, viene come trappola, gioco soltanto, una trappola a bottola, poi, come side, gioco i royal di free, che sono, veramente, rotti, nella side, invece, vabbè, gioco, il nostro, amico 5 test, amico fritz, il, la dark fire dragon, i den arsenal, catastore, brionac, un po' stand iron chain, per forza da giocare, con il debris, goio guardian, guerriero trapano, nel gioco 1, e, gioco questi 2, per onestamente, vorrei portare, a 2 questo, e, togliere, probabilmente, questo qui, dato che, non sono riuscito a sfruttarlo, al massimo, certo, è forte contro, magari, il maestro armatura nera, per poi chiudere, il game, però, non lo so, non mi ha convinto, troppo, però, appunto, vedremo con i test, poi, il, il combattente colossale, e, infine, i nostri, 4, draghi, 5d, tu, vieni su, e, infine, nella side, la faccio vedere, giusto, vabbè, questo è stato un po', il mio portafortuna, gioco 2 cyber draghi, virus elettrico, questo qui, questo qui, ho giocato, sia perché è forte contro macchina, magari, se giocavo royal oppression, questo non riusciamo mai a calare, comunque sia, sia contro macchina, e soprattutto, temevo mirror match, ma, quanto pare, ero l'unico player drago, che penso continuerò a esserlo, poi, gioco, vabbè, i due dd crow, che sono fortissimi, l'altro, qualche meru drago, come vi accennavo, che, obiettivamente, questa, è veramente, forte come carta, blocca un sacco di mazzi, del meta, e se ho vinto le partite, è stato, anche grazie a lui, perché poi, l'obiettivo con, il nostro amico, Red Ice, non è, tanto, quello di evocare, il drago notte bianca, come il disaster dragon, o magari, il primaterial, dragon, ma anche il disaster, obiettivamente, l'obiettivo è lui, cioè la carta forte, è lui, perché non ti possono calare, i gold, non ti possono calare, tragoedia, tragoedia, come vogliamo chiamarla, quindi vai a, chiudere, praticamente, il, il, quel turno, poi, gioco, due smashing ground, e un ritorno totale, inizialmente, giocavo a 42 carte, addirittura, in questo mazzo, dato che, appunto, mi lavo, e ho carte destruction, all'earth darkness, e poi, ho voluto portare, a 41, e, vabbè, proseguo, così poi vi faccio il, vi dico alcune scelte, che avrei fatto, due, twister, due royal decree, come vi accennavo prima, che sono fortissimi, e, e il, chimerate, chimerate, ovviamente, non me lo sono dimenticato, ma lo gioco di, di, di side, cambiamenti, che avrei voluto fare, alla side, diciamo, a saperlo, un po', avrei tolto, questi due, però, considerando il fatto, che, ci fossero stati anche altri draghi, probabilmente, forse avrei fatto, queste due in meno, e avrei giocato, due mask of restrict, perché, un po', temevo, monarca, fortunatamente, non l'ho incontrato, anche se, in molti mazzi, appunto, con cui ho giocato, ne, ne abusavano, un pochettino, però, secondo me, i mask of restrict, potrebbe essere, la, la scelta giusta, diciamo, contro, eh, frog, monarch, o quel che, anche perché, ho fatto anche, vari top, negli ultimi eventi, o quel che ho visto, quindi, proprio, in realtà, ho giocato, quelle, ed eccoci qui, io vi ringrazio ancora, aver visualizzato il video, fino a questo punto, scusate se faccio video di fretta, ora parlerò un po' più velocemente, ma, appunto, la memoria del telefono, si esaurisce sempre, ma, ho provato a ovviare al problema, ho andato a prendere un po' di attrezzatura, e, lasciate sempre un like, un commento, ditemi cosa ne pensate del mazzo, provatelo se vi piace, è un po' un'alternativa carina, di giocare Drago, e ci vediamo, con il prossimo video, magari un unboxing, magari anche fuori da Yugi, o, con una delle decklist, che mi avete chiesto, qui nei commenti, o Gladiator Beast, o magari Frogmoner, quindi, a rivederci, al prossimo video, see you next time!